Ah, e non dimentichi di far venire l'avvocato, eh? Così sistemiamo tutto anche dal punto di vista legale. Sarò lì fra poco. Finito? Sì, chiudo pure. Grazie, signorina. Scusi, maestro. Prego, Vito. Santo cielo, che tormento. Ma guarda che cosa ci doveva capitare. Proprio adesso che volevamo stare un po' tranquilli. Ma che cosa fa lì, seduto e nudo? Non mi vuole accompagnare. Non vedo a che servirebbe la mia presenza. Oh, la prego, la prego, venga con me. Cos'è? Non le piaccio più, forse? Molchissima. Senta, passiamo.